Ci soffermiamo un attimo sulla trama dei malavoglia, su un episodio specifico. Se hai problemi con la scrittura, ti consiglio il mio libro dedicato alla stesura del tema per la scuola superiore e la maturità. Si tratta di una guida chiara e completa in cui ti insegno il mio metodo per fare un tema perfetto. Grazie alle spiegazioni pratiche affiancate da esempi concreti, imparerai ad analizzare le tracce, trovare le idee, argomentare e scrivere bene. Potrai così affrontare facilmente il tema e la prima prova della maturità. Il libro è disponibile su Amazon, trovi i link in descrizione e nel primo commento. Siamo nel 1863 ad Acitrezza dove c'è questa famiglia molto laboriosa di pescatori, in cui però il figlio Ntoni, che sarebbe il figlio maggiore di Bastianazzo e l'ipote di padron Ntoni, il figlio Ntoni viene chiamato a fare la leva militare. Ed ecco che qui vediamo per la prima volta l'istituzione, in questo caso il Regno d'Italia, che entra di prepotenza all'interno della società rurale della Sicilia di allora, quindi il mondo moderno che entra all'interno del mondo rurale, che lo sconvolge dall'interno. Infatti da questo fatto la famiglia dei Malavoia deve prendere tutta una serie di contromisure, in quanto hanno un raccolto cattivo, c'è una nata cattiva, poi bisogna trovare la dotte per la figlia Mena, che è in età di matrimonio, e in più come se non bastasse appunto Ntoni, il figlio Ntoni, è andato all'esercito a fare la leva, quindi ha tolto dalla forza lavoro alla famiglia. Per trovare una soluzione a tutto questo che cosa succede? Come sappiamo il padron Ntoni, cioè il capofamiglia, il nonno di Ntoni e il padre di Bastianazzo, fa un debito con zio crocifisso per comprare un carico di lupini. E quindi entra nel mondo dell'imprenditoria, più specificatamente del commercio. La famiglia di Ntoni ha una barca che si chiama La Providenza, che viene usata per pescare, però questa barca, dopo che è stato comprato il carico di lupini, viene riutilizzata a fini commerciali, non più per pescare, ma appunto per trasportare questo carico da un'altra parte e rivenderlo. Così l'imbarcazione viene affidata a Bastianazzo, e Bastianazzo appunto parte con questa imbarcazione per vendere questo carico. Però scoppia un naufragio, e mentre la barca, la providenza, si trova in mezzo al mare, Verga, o meglio il narratore, ce lo descrive attraverso una narrazione corale, mostrandoci tutto ciò che pensavano i cittadini di Acitrezza, mostrandoci che cosa pensano dell'azione che ha fatto Padrontoni, e i loro sentimenti, le loro emozioni per quella tragedia che si sta vivendo, in quanto la providenza sta per naufragare. Ed è molto interessante che, mentre c'è Bastianazzo che sta soffrendo il mare sopra la providenza, molto interessante che ci sono dei pareri che ci toccano in maniera particolare nella società moderna. Pensiamo ad esempio a un personaggio, Padre Fortunato Cipolla, che è il più ricco del paese, possiede molti terreni, ha addirittura una barca, possiede anche molti vignetti, insomma è un proprietario terriero, il ricco all'interno del paese, e mentre c'è questa providenza che si trova in mezzo al mare, Padre Fortunato Cipolla dice queste parole, adesso tutti vogliono fare i negozianti per arricchire, e poi quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza. Cioè Padre Fortunato Cipolla critica la scelta di Padrontoni di abbandonare la pesca e di darsi al commercio, cioè di migliorare la propria condizione. E questo lo ritroviamo anche nella prefazione dell'opera, dove appunto leggiamo che la vaga bramosia dell'ignotto, l'accorgersi che non si sta bene o che si potrebbe stare meglio, sono sì il movente della fiumana del progresso, ma sono anche ciò che causa la sofferenza. Infatti la tragedia dei Malavoglia nasce proprio dal desiderio di migliorare la propria condizione, in quanto con il naufragio della providenza, Bastianazzo muore e Lupini vanno perduti. C'è un debito da ripagare, appunto per i soldi presi da zio crocifisso, e poi c'è la barca da riparare, quindi una triplice disgrazia. È molto interessante riflettere su come questo pensiero di Padre Fortunato Cipolla sia andato in corso a una trasformazione nel corso di secoli, cioè Padre Fortunato Cipolla è un ricco proprietario terriero e quindi è nel suo interesse criticare, impedire a chiunque voglia migliorare la propria condizione di farlo, per cui è un nemico. E a partire da questo pensiamo ad esempio agli anni del berlusconismo, dove Berlusconi ci aveva trasmesso questa immagine che tutti erano nemici dell'imprenditore. Ci basta pensare anche a un pezzo di Caparezza, Stango e Sbronzo, che recita a politici che giocano agli attori, ragazzi che per lavoro c'hanno i genitori, sono diventati tutti pazzi, gli han convinti che saranno tutti imprenditori, dove appunto la figura dell'imprenditore era colui a cui tutti volevano ambidia, ma che veniva anche odiata da tutti perché erano gelosi. E la narrazione berlusconiana ci ha trasmesso, ha trasmesso alle generazioni precedenti l'idea che l'imprenditore fosse pieno di nemici e di gente che appunto odia la ricchezza e odia chi è ricco. Quindi abbiamo questa figura dell'imprenditore che viene visto come un uomo solo, secondato da tanti nemici e questo si è trasformato, questo modo di pensare anche oggi è stato rielaborato nei cosiddetti guru che noi vediamo sui social media che con le loro pubblicità ci propinano corsi che ci consentono di arricchirsi e la loro base è sì, se tu vuoi esiste una verità, esiste un metodo che io ti vendo per poter fare i soldi. Tutti quelli che invece che ti dicono che non puoi stanno mentendo e hanno la stessa visione di padre e fortunato cipolla. Hanno la stessa visione dei nemici e degli imprenditori di Berlusconi. Ecco questi sono tutti dei fuffa guru.